Anche il gruppo Save San Mezzano è intervenuto sulla sospensione dell'asta del famoso castello di Leccio nel comune di Reggello. La notizia di due giorni fa sull'interruzione della pratica al Tribunale di Firenze ha sollevato una serie di ipotesi sul futuro del complesso monumentale, forse uno dei più imponenti della nostra vallata. L'asta per San Mezzano, che si sarebbe dovuta svolgere il 24 maggio, scrivono i componenti del gruppo, è stata sospesa, non rinviata, dal giudice che fra qualche giorno renderà note le motivazioni. Una presa d'atto di quanto accaduto senza alcuna elucubrazione da parte del movimento, che si è messo a capo di una battaglia per salvare dall'incuria e dalla decadenza il bene storico ed artistico di San Mezzano. Molte sono le ipotesi che veleggiano intorno a questa decisione, prosegue il messaggio del gruppo, ma finché non si saprà ciò che tale avvenimento comporta ai fini della tutela del castello, come Save San Mezzano, accogliamo tale notizia, né in modo positivo né in modo negativo. Da parte nostra e con a fianco la giunta regionale toscana, che grazie all'approvazione della mozione 99 del 10 maggio scorso ha sposato la nostra battaglia, continueremo a promuovere interventi ed azioni finalizzate a valorizzare e a far conoscere il complesso. Insomma, finché non arriveranno notizie certe, i paladini del maniero moresco del Valdarno Fiorentino non si pronunciano su ciò che sta dietro la decisione del giudice di sospendere l'asta, con la quale erano stati messi in vendita al prezzo base di 15 milioni di euro il castello, le sue bellissime sale, il terreno ed altri 13 immobili della San Mezzano Castel SRL. Intanto si legge nel messaggio di Save San Mezzano Vi invitiamo a votare il castello tra i luoghi del cuore, iniziativa realizzata dal FAI, Fondo Ambientale Italiano, con il gruppo Intesa San Paolo, dove in palio vi sono fondi da utilizzare per la ristrutturazione e la salvaguardia.